niente padio questa mattina mi sono già sbagliata male e lui mi tratta male quindi non ti può permettere di fare queste cose chiaro sono molto figa con la sua sorella grazie tizia ciao ragazzi benvenuti a tutti in questo nuovo video bentornati sul canale qua di Vasa93 oggi saluta mamma saluta mamma tu dici ciao papà bravissima ci andiamo alla seconda cam oggi dual vlog insieme a federica eccoci qua attenzione quindi mi sentono adesso no? devi sapere che mi sta sul cavolo oggi roberto oggi siamo insieme a tutto il gruppo come vedete guardate quanti siamo ce ne stiamo andando al gran sasso più precisamente a prati di tivo eccoci qua destinazione appunto prati di tivo siamo in sella maia allora oggi proviamo anche il nuovo mono in quanto sì all'apparenza sembra il mono originale ma assolutamente non c'entra nulla infatti è stato rivisto da christian dell'officina per chi volesse cercarlo e sospension 36 sui vari social dove appunto siamo andati a modificare l'impianto di sospensione originale quindi andando a modificare il pacco lamellare all'interno del mono ammortizzatore la differenza si sente subito subito oh li abbiamo fatta cazzo cazzo vada mi era acceso tutta faggiana antiparico allora federica che ci dici sei contenta di questo giro si sono i santiparico stamattina ti ho detto oggi ci aspetteranno quasi 400 chilometri anzi levandolo quasi ci aspettano più di 400 chilometri già siamo sui 45 siamo appena partiti siamo andando in direzione riedi come dicevo oggi andremo a testare questo mono ammortizzatore fin da subito è cambiato completamente ragazzi allora come sapete essendo molto molto morbido in curva iniziava a imbarcarsi proprio di brutto e non dava quel feeling quella confidenza giusta che ti permetteva comunque di spingere e di andare in moto decentemente ecco con questo pare che abbiamo risolto anche se si andrà comunque a migliorare sempre di più in quanto nei prossimi giorni andremo a montare una nuova modifica che poi vi svelerò mamma mia guarda che curvetta edizione ascoli piceno ragazzi per chi non lo sapesse stiamo andando a prati di tivo località pontuosa alle pendici del gran sasso quindi in provincia di teramo guarda che bello guarda la scritta dux la vedi fatta con gli alberi ma poi non ce vedi si la vedo la immagino donna quanti sei mo questo cambio in direzione così repentino comunque tutte quante mi dicono mi faccio a stare così piegata con le ginocchi in avanti e la schiena così dritta per loro è strano ma perché loro non sanno che comunque tu provieni da viaggi di comunque pochi chilometri si parla no da roma a bologna da roma in sicilia tutto questo sul k da roma a senigallia tutto questo sul ktm 690 è in salita è in salita si da che curvetta non arrivi a francesco non arrivi a francesco non arrivi a francesco e lo so è normale feve non lo so prima la volta non lo sentivo così tanto guarda all'interno c'è prova guarda che corbone no bello fra pazzesca raga pazzesca che strada una delle strade più belle che abbia mai fatto ecco a voi signori guardate che roba è bellissimo guarda che bello mi sono fatta a piedi Federica ci ha fatto pure l'escursione a piedi con il piccolo e il corno grande tutte sono fatte ah che spettacolo com'è stata la fede? bello bello a parte il solto finale madonna che roba è un parco giochi senti sta gomma che bello rega ecco a voi il gran sasso ciao b però sono arrivati ultimi ultimi dei primi chiede ma si è appiglietto questo però si è appiglietto questo cosa fai a rispondermi così voglio firmare la sua risposta no 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 Grazie a tutti. 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 Abbiamo anche acceso il barbecue, facciamo vedere insomma che robetta abbiamo preparato qua. Cattine di tonno sul barbecue, robetta così al bacio. Allora Fede, com'è andata questa giornata? Benissimo. Insomma, ti è scheriposata. Come dicevo prima, insomma, abituata ai viaggi, ai lunghi viaggi fatti col 690. Mai anche pronta al trono. Spero che questo video vi sia piaciuto, noi vi salutiamo, vi diamo un grosso abbraccio, ci vediamo al prossimo video. Ringrazio anche Papa per essere venuto, non so se l'avete visto nel video. No, infatti sono sempre davanti a te. Sono sempre davanti, sì. Io sono fermone, mi padre gli dar gas forte, regalo. Non l'avevo visto. Altri livelli proprio. Quanto tanto, girami le bruschette, sennò si bruciano. Un bacione dal Vasa, da Federica. Dovete mettere il pollice in su, poi devono attivare la campanella. E insieme? Prima che devono fare? Prima della campanella. Ah, devono iscriversi al canale e poi mettere la campanella. Per? A ricevere le notifiche. Ok. Seguitemi. Seguiteci. Su Instagram. Perché pure lei. Su Instagram. Giustamente, seguitici su Instagram, basa trattino basso 93 e dillo federica.gabrielli. Mi raccomando, seguitela tutti. Un saluto, ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ciao.